I paesaggi d'Abruzzo diventano presepi, un'esposizione di presepi a Palazzo Fibbioni. Le creazioni artistiche sono state realizzate da Piero Boschetti e sono creazioni fatte con materiali semplici e naturali, come il legno, la pietra e il sughero. Si possono notare giochi di luce, musica e tanti piccoli particolari che rendono magiche queste creazioni. Nelle rappresentazioni di Piero Boschetti si possono ammirare i caratteristici borghi medievali d'Abruzzo, villaggi arroccati su cucuzzoli di montagne, scene che sanno di antico e ricordano momenti di vita vissuta, paesaggi e scorci di natura che evocano nel visitatore profonde emozioni. Le rappresentazioni hanno voluto dare molto risalto anche alla figura della donna. La spiritoria dell'Abruzzo, come intendiamo, possa essere le nostre montagne. Possono essere le montagne che danno quell'aspetto così bello come possa essere il Gran Sasso, il Sirente. Le montagne hanno una bellezza unica e quindi riportarle nell'arte presepiale ci sta abbastanza bene. Il pubblico li apprezza perché appunto ho riportato l'arte presepiale in queste bellissime montagne appenniniche. Grazie. 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 Grazie.